ciao ragazzi bentornati nel mio video manu on channel chi non l'avesse ancora fatto si iscrive al canale non costa niente iscrivetevi al canale ragazzi commentate e lasciate like ieri sera è terminata la 32esima giornata di serie a con fiorentina genoa 1 a 1 ormai il genoa è salvo e atalanta verona 2 a 2 scammacca ederson e lazovic noslin è normale pensare che l'atalanta sta pensando solo all'europa league mentre al verona gli ha regalato un punticino per salvarsi diciamo che il verona è stato graziato ecco quando si pensa all'europa magari se non aveva l'europa league era come posso dire poteva vincerla invece così cavolo ragazzi dal 2 a 0 guerra l'atalanta l'ha proprio graziata al verona con gol di primo tempo scammacca ederson secondo tempo lazovic e noslin ragazzi commentate secondo voi cosa succederà se il verona si salverà e se l'atalanta dopo domani con il liverpool ci riuscirà a tre gol di scarto di vantaggio quindi speriamo bene ragazzi speriamo bene anche perché avevo il vantaggio di avere cinque squadre e in champions league se almeno tanto una tra roma e milan e italiana e passa e se dovesse passare anche l'atalanta troveremo la certezza di avere per il prossimo anno cinque squadre in champions league ragazzi addirittura cinque squadre ora vediamo allora fiorentina genoa 1 a 1 rigore gudemusso un primo tempo e secondo tempo icone 54esimo con questo pareggio il genoa si è assicurato al 100 per cento la salvezza e salvo con 39 punti poi atalanta verona con questo pareggio al verona si mette un punticino più tranquillo va a 28 ora vediamo vediamo la classifica ragazzi allora udinese 28 verona 28 e non possiamo dire tranquillo perché il frosinone soltanto più 1 27 quindi è tutto lì il sassuolo le proverà tutte per risalire la china ora c'è sassuolo lecce ragazzi che secondo me sarà da tre gol sarà quella partita sarà non so cosa sia quella partita ragazzi sarà un casino secondo me da tre gol sicuro il sassuolo ci riuscirà ci proverà in tutti i modi già era 3 a 1 col milan e il milan meno male che l'ha ripreso 3 a 3 e ora vedremo perché il sassuolo e se la rischia veramente penultimo a 26 punti ragazzi poi troviamo la salernitana già in b l'inter che ormai ha già vinto l'inter che ormai aggiornato lo scudetto troviamo secondo milan e 9 più 14 terza la juve a 63 quarto al bologna 59 quinta la roma 55 atalanta 51 nazi 49 napoli 49 sì bello il discorso salvezza ragazzi perché ci sono praticamente uno due tre quattro cinque sei sette squadre in 26 27 squadre in sei punti ragazzi il 67 punti troviamo sette squadre quindi è una cosa incredibile quest'anno veramente se lo giocano proprio se lo giocheranno fino all'ultima giornata ragazzi la salvezza ragazzi quest'anno è proprio bello allora vediamo la prossima giornata allora anche il frosinone praticamente è stata la giornata dei pareggi questa 32esima giornata il frosinone che va a napoli e praticamente va sotto si fa rimonta va sotto e rimonta come ha fatto il cagliari ragazzi con l'inter va sotto rimonta va sotto e rimonta 2 a 2 napoli frosinone 2 a 2 inter cagliari 2 a 2 la giornata dei pareggi sassuolo milan 3 a 3 e addirittura sassuolo era 3 a 1 ha fatto di tutto per salvarsi ma il milan ha raggiunto un pareggio un pareggio clamoroso che che tanto ormai era saldo al secondo posto più che altro è stato per l'orgoglio un milan che si è ripreso meno male ed era sotto pensate 3 a 1 diciamo che i punti i punti li voleva più sassuolo più che altro però il milan l'ha ripresa veramente bene ha fatto un gran gol del 3 a 3 con con ocaforo all'84 esimo ragazzi quindi grande 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 orgoglio del milan poi udiresa roma e l'udinase rimane a 28 perché è stata interrotta la partita per malora in campo di indica e secondo me hanno fatto benissimo ed erossi ha fatto benissimo perché i ragazzi a livello psicologico non erano pronti e quindi non so che giorno si riprenderà però si riprenderà dal 72 esimo minuto quindi ancora avranno più o meno un quarto d'ora più recupero ancora da da giocare poi ripeto inter cagliari 2 a 2 un punto preziosissimo del cagliari che quasi salvo va a 31 punti e poi ripeto ieri e fiorentina genoa 1 a 1 con questo punto il genoa si è si è salvato e poi atalanta verona 2 a 2 punto preziosissimo per il verona per la salvezza allora vediamo europa league roma milan sarà arbitrata da marsiniac e chi arbitro è ragazzi marsiniac speriamo solo che sia bravo poi latexie per atalanta liverpool speriamo che l'atalanta passi perché italiana e se passa l'atalanta ragazzi cinque squadre abbiamo in champions league l'anno prossimo ripeto cinque squadre pioli ultima chiamata europa league se perde due nomi per il milan e andiamo a vedere quali sono la panchina del milan in bilico in caso di eliminazione in quarte di finale per gli operatori ipotesi ribaltoni a fine anno addirittura ragazzi non gli basta neanche il secondo posto vogliono che vinca l'europa league in effetti antonio conte allenatore del milan del primo settembre a quota a quota 3 70 ragazzi su sisal 3 75 quota il nuovo allenatore milan antonio conte l'opzione lavagna 2 75 su gazabet 3 75 su sisal e 4 50 su snai incredibile antonio conte beh conte al milan farebbe veramente bene veramente bene invece tiago motta a quota più alta addirittura a 6 su gazabet per il nuovo allenatore del milan tiago motta 6 su gazabet e 750 sisal non sarebbe male tiago motta come nuovo allenatore del milan ragazzi scrivetemelo nei commenti se voi vorreste come nuovo allenatore del milan tiago motta ragazzi non sarebbe male no no anzi gli altri nomi gli altri nomi sono lopettegui lopettegui tiago motta de zerbi de zerbi e maurizio sardi ragazzi secondo voi quale nome vi piace di più de zerbi tiago motta maurizio sarri o julienne lopettegui scrivetemelo nei commenti come nuovo allenatore del milan e ripeto se non riuscisse a passare contro la roma secondo i buchi sono già pronti a sostituirlo con un altro allenatore che forse antonio conte ma vedremo ragazzi vedremo in futuro qua c'è scritto così ragazzi dal fantasma ragnica alle crisi d'inverno le sette vite di pioli al milan e in effetti l'autoro vuole un derby da dieci e lode vittorio scudetto è seconda stella ragazzi vedremo ragazzi vedremo vedremo se riuscirà a passare con la roma perché se passa la roma non lo so ma secondo me non basterà neanche il secondo posto secondo me lo tolgo una pioli scrivetemi cosa ne pensate nei commenti perché si ha fatto bene ha fatto il secondo posto gli ha garantito l'accesso alla champions league al milan per l'anno prossimo ma il milan ha bisogno di vincere il milan e il milan ha vinto un sacco di trofei ragazzi quindi cerchiamo di passare contro la roma ragazzi e dai stefano pioli si gioca al milan nel giro di di pochi giorni e in un doppio derby non esattamente la specialità della casa tra il giovedì di coppa contro la roma e il lunedì di campionato che può regalare lo scudetto all'inter all'inter ragazzi gli basta un pareggio col milan e vince lo scudetto ragazzi anche se molti dicono eh deve vincere gol milan all'inter lì basta un pareggio è perché la diretta concorrente è il milan e vince lo scudetto ormai il tecnico mediano cerca la quadra per salvare per l'ennesima volta una panchina più volte in discussione negli ultimi mesi scoppiamo cosa ne pensano i Bucchi i Bucchi dicono o Antonio Conte ragazzi o gli altri allenatori che vi ho detto io Lopetegui, Tiago Motta, De Zerbi e Maurizio Sarri io penso che Antonio Conte non sarebbe male avremmo un super allenatore nella panchina del Milan ragazzi Antonio Conte anche a livello internazionale ragazzi per i medi a livello mediatico sarebbe un grandissimo allenatore ragazzi veramente un grande allenatore quindi se non riuscisse Pioli a passare con la Roma se non riuscisse e sarebbe veramente contento se chiamessero Antonio Conte sì sarebbe un grandissimo allenatore comunque ragazzi stasera non perdetevi le partite di Champions League che ci sono Barcellona Barcellona, Prisma Germana e Dortmund Atletico Madrid io vi saluto mi raccomando iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi